DPCM, lockdown e Natale. Tre parole che nella stessa frase certamente preferiremmo non sentire, ma tant'è. Il periodo è questo e fare come gli struzzi non serve a nulla. Buongiorno signori, io sono Mr. Lulo e oggi parliamo di Natale al tempo del Covid. Il 3 dicembre si avvicina e con lui un nuovo DPCM. Adesso vi spiego tutto, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale. Grazie! E come sarà il Natale al tempo della pandemia? Beh, ma come volete che sia, attento, ritirato e rispettoso della propria altrui salute, si spera. Niente feste, cenoni, veglioni, mega riunioni familiari. Che poi, ammettiamolo, spesso non è che questi pranzi e cene siano intrisi del vero e genuino spirito natalizio, ma questa è tutta un'altra storia. Allo studio c'è quindi un nuovo DPCM o comunque nuove specifiche misure. Sul tavolo in questo momento tante le ipotesi, ma è chiaro che ci verrà richiesto uno sforzo ulteriore per festeggiare sobriamente. Che poi, sobriamente. Non so cosa siate abituati a fare voi a Natale, ma io, ma questa di nuovo è tutta un'altra storia. Le parole che arrivano dal Presidente Conte, dal Comitato Tecnico Scientifico, dai vari ministri e sottoministri, ci danno però una preview abbastanza chiara di quanto potrà accadere da qui a fine anno. Si apre infatti la strada ad un dicembre a due fasi. Possibili deroghe e allentamenti nelle zone gialle e forse anche arancioni prima delle festività, anche per rilanciare un minimo i consumi e lo shopping natalizio, ma con l'approssimarsi poi delle date che contano, assisteremo ad un ritorno al rigore per evitare di buttare alle ortiche tutti i sacrifici di queste ultime settimane con una terza ondata di inizio 2021 che francamente non se ne può più e ve lo dice uno che sta in zona rossa. E comunque lo diceva anche mia nonna, meno siamo, meglio stiamo, ma forse questa era una sua libera interpretazione. Detto questo signori, io come al solito vi saluto, vi ringrazio, buona domenica, ci vediamo in un prossimo video e lasciate un bel like per sostenere il video e il canale. Un saluto a tutti da Mr. Lull.